Presidente della Commissione Bilancio, Vincenzo Dincecco, un suo commento sui lavori che si sono svolti ieri all'anno. Sì, ieri abbiamo appunto convocato la Commissione Bilancio per affrontare il tema del riallenamento dei bilanci e abbiamo ascoltato il dirigente d'Aristotele e l'assessore Liris perché stiamo avviando un percorso di conoscenza anche in questa nuova fase di questo nuovo Consiglio regionale perché abbiamo necessità e abbiamo sentito l'esigenza di collaborare con gli uffici per avere un quadro chiaro di quella che è la situazione del bilancio della Regione Abruzzo, di quello che è stato fatto negli ultimi anni, del percorso di riallineamento degli ultimi bilanci, di quello che è appunto il tema dell'indebitamento della Regione Abruzzo e di cosa dovremo affrontare negli anni seguenti. Abbiamo intrapreso questo percorso conoscitivo attraverso queste commissioni con la presenza del dirigente, è stata la prima ieri ma ne faremo altre perché credo che dal dibattito di ieri e anche dalla conoscenza delle slide che il dirigente ci ha proposto abbiamo sicuramente un quadro più chiaro ed è giusto che chi oggi governa la Regione abbia contezze di quelli che sono i numeri che hanno accompagnato negli ultimi anni la gestione di questo importante ente e che si riparta dalla conoscenza di questi numeri per programmare un'azione di governo seria e concreta. Siamo contenti del primo incontro e ne faremo altri perché dovremo affrontare il tema anche del personale, quindi facendo un focus sul personale e anche il tema dell'indebitamento che abbiamo trattato parzialmente ieri ma che tratteremo in nuove commissioni nei prossimi giorni.